Massimo Doi, San Ministro e Delegato di Banca Mediano per Affari Italiani. Quanto è importante per voi il mercato di AIM Italia e quali suggerimenti date alle aziende in questo senso? Per noi è un mercato importante, siamo con la nostra SGR il primo investitore di questo mercato. Ci crediamo perché rappresenta, anche se molto in piccolo per il momento, quella che è la spina dorsale del nostro Paese che è fatta dalle piccole e medie imprese. E abbiamo deciso di attivarci per aiutare le imprese proprio a quotarsi in questo mercato. Perché? Perché quotarsi significa attirare capitali permanenti. Infatti la maggior parte delle quotazioni sono avvenute per aumento di capitale, quindi con imprenditori che hanno una visione di crescita e di lungo termine. E Banca Mediolanum è in grado con la sua struttura di aiutare le imprese appunto a quotarsi, non solo a quotarsi anche ma a finanziarsi mettendo obbligazioni piuttosto che a cercare altre fonti. Ma direi che quella della borsa è forse quella più interessante perché proprio i capitali, come dicevo prima, sono permanenti e perché oltre a questo inalza lo status dell'azienda, aiuta ad attrarre talenti, aiuta ad aumentare la trasparenza e questo vuol dire poi crescita nel futuro. Grazie.